Tirano un sospiro di sollievi dipendenti dei centri Aias di Nusco Calitri Avellino al termine del confronto in prefettura che dopo quattro ore si è concluso finalmente con un accordo secondo il quale l'ASL si farà carico del pagamento diretto di tre mensilità arretrate. Come confermato dalla stessa dirigente dell'azienda sanitaria locale Morgante, c'è un'intesa tra Aias ed ASL per verificare la possibilità di procedere al pagamento degli stipendi di luglio, agosto e settembre. Occorre però prima una verifica e nel merito il tavolo si aggiornerà giovedì sempre in prefettura. Finalmente c'è soddisfazione anche per la CGL che da tempo aveva impostato l'avvertenza verso questa direzione. L'accordo raggiunto riguarda tutti i dipendenti. Nelle prossime ore l'ASL deve sciogliere il dubbio sulla possibilità di pagare gli arretrati anche se l'azienda non ha il DURC in regola. Rispettorato del lavoro, stanto a quanto sostiene il segretario della funzione pubblica CGL, ha confermato che il percorso è praticabile. Aspettiamo questi due giorni con fiducia, sottolinea d'acconto che precisa inoltre i lavoratori, almeno quelli iscritti alla CGL, hanno in mano il titolo esecutivo delle diffide accertative che per ora mantengono in sospeso. Qualora le risposte dovessero essere negative sarà intrapreso un percorso giudiziario. Incontro positivo anche per il segretario dell'UGL è l'accordo migliore che si potesse fare, sostiene Vassiliadis. Se l'ASL paga le prime tre mensilità, l'Aias si libera di un grosso peso e può iniziare a lavorare per il DURC, fondamentale per ottenere i restanti 700 mila euro dovuti all'ASL. Al tavolo in prefettura erano presenti anche i due commissari, Aias del Genio e Arci, che nei giorni scorsi ai microfoni di Telenostra hanno puntualizzato in merito al debito che la Ollus avanza dall'ASL. Volevamo fare un accordo globale, per ora resta confermato solo quanto dovevamo avere dall'azienda sanitaria locale. Per quanto riguarda la struttura di via Morelli e Silvati, i due commissari attendono che il TAR si esprima. La struttura è stata adeguata e messa in sicurezza, lo stato attuale dell'immobile è stato documentato agli enti interessati. Ora con fiducia si attende che la magistratura amministrativa faccia il suo corso.